Io mi ritengo che la mia musica in questo momento è amata da tutti, viene un po' suonata e cantata da tutti. Madonnina dai riccioli d'oro. Siccome io sto sotto la strada, lei sta a casa, allora passa la gente, mi dice Carlo che c'è? Hai lasciato la televisione accesa? Se te va la spegno.